Siamo a Napoli, in pieno centro cittadino, nel cuore della città. Siamo in Piazza del Gesù e la giornata di oggi è senz'altro particolare. È il giorno dell'Immacolata. L'atmosfera natalizia già si sente per le strade ed anche se piove, come ogni anno, centinaia di fedeli sono accorsi in piazza per finirsi intorno al Cardinale Crescente Sede. Alla consapega preghiera sono seguite parole molto importanti e incoraggianti per la cittadinanza. Il Cardinale infatti ha voluto diffondere nuova fiducia ed energia al popolo napoletano che ormai da troppo tempo fa i conti contorti, le ingiustizie e gli angherie della famiglia. Il male che sembra proprio inesilpabile. Le parole pronunciate dal Cardinale hanno stabilito un legame, ammesso con la pacifica protesta dei ragazzi che hanno partecipato al fascismo di Anticamera. Il FeshMob è stato organizzato sfruttando canali di informazione sottierranei, blog e community. I ragazzi sono accorsi numerosi nella piazza che poco prima avevano spiegato il Cardinale Crescente e centinaia di credenti e pazienti di ascoltare le sue parole e le sue direi. Terminata la funzione religiosa, la piazza viene trasformata in un vero e proprio palcoscentro, al di sopra del quale si è continuata l'azione dei mobbers. Uno spio di tromba è tutto giù per piedra, come tanti soldatini davanti al peccone di seduzione. La loro caduta è solo metaforica, la loro protesta invece no, così come la vera anima del popolo che non deve e non vuole arrendersi. La manifestazione si è svolta in un modo pacifico ed era necessaria perché è necessario rispondere a chi eserce la violenza e pressione, trante l'unico mezzo che ha a disposizione, l'intimigazione. Nobbers hanno reagito, hanno detto di no. Da Napoli, Gianluca Guarino, World Cup News. Il scenario cecchino che ci spara perché non hanno potere economico, non hanno potere culturale, perché beni vengono sequestrati alla Camorra e quindi è l'unico potere, l'intimigazione. Abbiamo voluto dimostrare questo oggi cadendo a terra per 60 secondi. Che cos'è il Flash Mob? Il Flash Mob è un movimento che si è creato in Nato e in America e negli ultimi mesi è arrivato in Italia. Ultimamente si stanno facendo molti Flash Mob qui a Napoli. Noi abbiamo, normalmente, è un movimento ludico, diciamo, di un movimento molto casinale. Noi l'abbiamo voluto legare a un movimento sociale, a quello della Camorra, che è una questione sempre molto attuale qui a Napoli. La mobilizzazione per questa manifestazione si è fatta via internet, via cellulare, come? Principalmente su Facebook. Nel giro di pochi mesi siamo arrivati a 3.000 pass iscritti, con sms e mail, solo attraverso questi mezzi mediatici. Per chi volesse che fosse interessato ad altre manifestazioni, il sito ufficiale qual è? Abbiamo questo gruppo su Facebook che si chiama proprio Flash Mob contro la Camorra. Penso che daremo altre istruzioni nel giorno a segura. E anche sul sito per a Napoli.it saranno tutti gli eventi che creiamo. Benvenuti a Napoli, è l'8 dicembre 2009, giornata dell'Immacolata. Siamo a Perti del Gesù, come potete vedere. A Migliaia sono accorsi per le parole del Vescovo Sepe. Ma questa è una giornata particolare. Attenzione, facciamo passare... Come vedete, ci sono un po' di difficoltà. Una giornata particolare, come ho detto, è stato già il Vescovo che ha radunato molte persone, ma buona parte della cittadinanza è stata qui per il Flash Mob contro la Camorra. Molti ragazzi hanno aderito, con quest'urlo, con questa protesta pacifica, fondamentale, ma necessaria per la città contro i soprusi e la violenza che la cittadinanza subisce. La protesta è consistita in un suono di tromba che ha attivato un'azione semplice, ma spontanea, sincera. E comunque ha legato parecchie persone. Sono accasciati per terra, come avete potuto vedere nelle immagini precedenti, e sono rimasti per terra per alcuni minuti. Adesso i cittadini sono andati, liberi a continuare le proprie attività, la spesa, andare in banca, le tasse, la famiglia e tutto quanto. Da Napoli è tutto, da Luca Guarino, Wake Up News. Molto bello. Allora, com'è stata questa situazione? È stato molto bello, si è sentita la partecipazione emotiva di tutti.